In sala stampa alla fine della partita anche il coach Massimiliano Grassadonio, coach della Grima di Gorla, è andata male, hai gridato tanto Massimiliano ma non è servita? No, abbiamo avuto un approccio alla partita sinceramente sbagliato nel senso che non possiamo entrare in campo così. Mi è spiaciuto perché avevamo preparato bene la gara, avevamo carichi, volevamo far bene qua dal mese, sapevamo che loro, chiaramente la loro sguarda rispetto alla classifica che hanno, che sarebbero che dovrebbero stare su una posizione un po' più nobile, però visti i infortuni di al mese eccetera eccetera, si ritrovano lì. E' chiaro che volevamo un po' minare le loro certezze da subito, date le tante sconfitte che avevano, i tre punti meno di noi. Però chiaramente se approcciamo la battuta così con quattro battute sbagliate nel primo set, recensioni staccate, tanti errori, chiaramente a me si è preso coraggio e poi per noi è diventata difficile. Sono contento di loro nel terzo set, abbiamo lottato, abbiamo fatto la nostra palla a volo, fatta di difesa, di lotta, determinazione, abbiamo toccato tanto a muro. Peccato perché dovevamo avere un atteggiamento così dal primo set e niente, però abbiamo avuto problemi, abbiamo problemi di roster, infortuni così e stiamo lavorando però benissimo. Le ragazze sono contento perché ci hanno da fare in palestra e quindi credo che il lavoro alla lunga paghi. e siamo feliciosi per le giorni di ritorno per far bene e per provare a salvarci. Era importante oggi fare per noi stessi un approccio diverso da partita e combattere un po' di più con Alvese da questo punto di vista. Ti voglio chiedere Massimiliano un giudizio invece sulla Tecno Team, tu hai detto che secondo te ha una posizione che non gli compete sicuramente. Che cosa prevedi allora per questa squadra? Io ho visto giocare con il settimo sabato scorso, oggi con noi, una squadra che ha apporti di tutti i reparti, combatta, un'ottima ricezione, oggi si è visto. Quindi credo che le giorni di ritorno possano fare, io lavoro, possono fare bene. Chiaro che non aspetta a me giudicare, però complimenti perché le giorni di ritorno secondo me possono fare un bellissimo campionato. Grazie Massimo, grazie. Prego.